Anche un discreto tiratore, Heinrich appoggia per Battistuta, si allunga il pallone, Battistuta! Rete! La rete di Battistuta! E può essere un gol storico questo per la Fiorentina. Ha chiamato il pallone, lo ha voluto lui e poi ha affreddato Seaman e il delirio adesso per i tifosi viola presenti a Wembley. Un gran gol quello di Battistuta, merita di essere rivisto. Guardate Heinrich, allarga Battistuta, prende sul tempo Winterburn e da posizione quasi impossibile Fredda Seaman. Un gol davvero alla Battistuta. Guardate Heinrich dentro, Battistuta si allarga, destro secco, boom! Fiorentina in vantaggio. È davvero molto bello questo gol.